Bentornati cari amici, bentornati sul canale Sandro Cicali Free Energy, questo è un video brevissimo perché abbiamo un'offerta in questi giorni di batterie della IFG, un'offerta interessante di rimanenze di magazzino delle batterie della IFG presenti in Europa, quindi consegna ovviamente in pochissimi giorni. Si tratta di due modelli, modelli da parete, non il modello rack ma quelle lunghe e quelle larghe come quella che ho appunto utilizzato pure io e l'azienda sta facendo il trasloco perché ha preso un nuovo magazzino in Olanda e lo sta appunto rifornendo con i nuovi prodotti che arriveranno, tra l'altro ci saranno anche delle batterie nuove con la wifi che testeremo insieme, quindi mi verrà inviata una batteria da testare per il discorso appunto della comunicazione wifi e appunto vedremo come funziona. Ma il video si rivolge soprattutto a voi che avete magari bisogno di prendere una batteria all'ultimo momento, beh abbiamo ancora tre batterie disponibili, andiamo a vedere. Bene, allora abbiamo disponibilità in questo momento e il prezzo come potete vedere è in dollari, ma se lo traduciamo in euro ovviamente il prezzo cala, quindi abbiamo 1641 euro per questo tipo di batteria qua, che è il modello appunto WL48100, il modello da parete. Allora ritorniamo in dollari, abbiamo 1779 dollari, di questa batteria ne è rimaste una sola, quindi l'offerta si pone per questa batteria qua, che ne è rimasta una sola, e per l'altro modello, sempre WL48100 da parete, il modello appunto più largo. Sono batterie da 5,12 kilowatt, celle da 100 ampere della Eevee e BMS della Pace, come ben sapete tutte le qualità di queste batterie, abbiamo tre pezzi disponibili. Il prezzo attuale in dollari 1799 dollari, che si tramutano in euro a 1641, bene esattamente con il cambio attuale del dollaro, queste batterie verranno scontate di 200 euro l'una, quindi caleremo a 1579 per ogni batteria, più l'ulteriore sconto affiliato al codice del canale Sandro Cicali Free Energy. Quindi, se siete interessati e avete bisogno di queste batterie, sappiate che la IFG appunto dispone di due batterie di questo modello qua e dell'ultima batteria di quest'altro modello più lungo, che alcuni di voi già stanno utilizzando. Quindi ovviamente vi lascio tutto in descrizione, codici di sconto, ovviamente affiliati al canale, voi contattate il personale, in questo caso il signor Eric, che molti di voi già conoscono, e vi spiegherà il tutto. Questa diciamo è una promozione giusto per svuotare il magazzino, perché appunto arriverà il nuovo magazzino in Olanda, con nuove batterie, perché arriveranno altri modelli della IFG, sempre le solite tarature, però con nuove celle, nuovi modelli di celle, un nuovo tipo di BMS controllabile con la Wi-Fi. Stanno già testando il nuovo modello, poi mi verranno inviati alcuni report e testeremo anche noi sul canale il modello di BMS che verrà installato sulle nuove batterie della IFG con la Wi-Fi integrata. Quindi grandissime novità in arrivo. Quindi per chi fosse interessato all'acquisto di due batterie o di tre batterie o di una batteria da parete, sappiate che abbiamo a disposizione ancora questi tre pezzi rimasti in magazzino, con uno sconto di 200 dollari, che non è poco, più l'ulteriore sconto che verrà applicato al codice sconto del canale Sandro Cicali Free Energy. Chi è interessato può contattare direttamente l'azienda a nome mio. E come ben sapete, chi ha già le batterie della IFG sono veramente di altissima qualità. Quindi cosa dire, vi ringrazio, approfittate per chi ne avrà bisogno di questa offerta, in pochi giorni vi arriveranno a casa e quindi avrete già tutto pronto per partire per il vostro nuovo impianto fotovoltaico. Ciao a tutti e grazie! Ciao a tutti!